ok, allora bentornati ho fatto solo una piccola modifica l'ho ampliata a 0,6 quindi 60% adesso riesco a entrare in tutte le stanze non qua, perché c'è poco spazio come vedete va tutto bene ma abbiamo detto che manca la possibilità di salire le scale ora, al di là del modificare eventualmente la mesh c'è un modo molto semplice che è quello di mettere dei waypoint cioè dei posti dove la gente può trasportarsi e questo lo si fa andando in spoke quindi andiamo in spoke e poi col tasto destro ci muoviamo per andare più o meno dove vogliamo mettere il waypoint andiamo negli elementi il waypoint è questo quindi waypoint è praticamente allora mettiamo waypoint qua scendendo la scala e lo chiamiamo lo chiamiamo piano 0 piano underscore 0 e poi metteremo invece al piano di sopra quindi faremo un... adesso vediamo un po' se riusciamo a muoversi in qualche modo quindi andiamo col tasto destro saldiamo virtualmente questa scala con la W ecco e mettiamo un waypoint qua al piano di sopra quindi possiamo anche fare di nuovo un waypoint questo lo mettiamo qua e il waypoint tasto destro si muoviamo ok direi che vediamo un po' se cioè praticamente salendo la scala questo waypoint guarda subito in questa direzione se no con Q lo possiamo far guardare di fronte ok e questo qui lo chiamiamo piano underscore 1 ora a questo punto qui dobbiamo mettere due link un link sopra per andare al piano di sotto e un link sotto per andare al piano di sopra si fa appunto con link c'è questo oggettino link lo prendiamo lo mettiamo qua quindi vedete che qui compare praticamente questa questo simboletto credete che sono tipo una catenella catenella vuol dire link e il link gli diciamo che deve andare cancelletto piano 0 e così il link praticamente va direttamente al questo qui teleport verso piano 0 oppure anche solo piano 0 tp piano 0 eventualmente potete modificare la scala in modo tale che si veda meglio il teleport poi sempre con il tasto destro navighiamo sotto dove abbiamo la situazione l'uomo qui troviano qui abbiamo la scala qui abbiamo il punto di discesa e qui mettiamo un altro link link lo mettiamo qua mettiamo sempre scala 2 così viene un pochino grosso ecco questo qui magari lo mettiamo in modo tale da non disturbare il quadro cioè da non sovrapporsi sul quadro tasto destro vediamo un po' ecco questa cosa qua adesso vedete che si va in realtà sovrapporre perché ehm ehm la quindi dobbiamo soltanto mettere una posizione un pochino neutra in questo caso perché c'è il quadro eh quindi ehm lo ah no dunque il rosso va in giù il blu ok lo mettiamo verso il bordo della scala qua ok quindi compare lì a questo punto cosa succederà che lì comparirà la foto della stanza e ehm con go to cioè praticamente cliccando ci si teleporterà al piano di sopra lo proviamo nel senso che facciamo ctrl s facciamo publish to hubs adesso facciamo la pubblicazione viene uploadato però la scena come avete visto è molto leggera andiamo sul qui dove stiamo verificando vedete che qui comparirà il waypoint quindi per vedere questa cosa qua possiamo anche qui fare il scene ehm scene e poi andare sulle my scene e la mia scena in questo momento è questo studio empty room e così praticamente cambio la scena e quando rientro dovrei vedermi all'inizio non vedo il non vedo il il teleport facciamo G proviamo a vedere se il piano di sopra il teleport è arrivato sì il teleport vedete che è questo che va al piano di sotto quindi ah forse perché non gli ho messo il go to giusto quindi da sopra praticamente premendo qua vado al piano di sotto e al piano di sotto in realtà manca il teleport per tornare su perché abbiamo sbagliato qualcosa quindi al piano tp piano 0 ecco è questo link che deve andare al piano 1 quindi chiamiamolo tp piano 1 gli diciamo cancelletto e gli mettiamo piano underscore 1 vedete che gli mettiamo proprio il nome del waypoint dove vogliamo andare ho dimenticato questo pezzetto quindi ctrl s lo salviamo lo pubblichiamo in hubs pubblichiamo la scena e ripetiamo il deploy di questa scena e quindi torniamo qua e facciamo di nuovo il scene e my scenes studio empty room perché così si chiamava ecco adesso mi giro ecco vedete che è comparso il link la sopra quindi adesso se io faccio il go to mi trovo al piano di sopra quindi posso navigarlo e poi tornando qua mi trovo il go to al piano di sotto il disegno che compare lì dipende da come è strutturato il cioè qui dovrebbe esserci una camera scene preview camera che è questa se facciamo doppio clic vedete che la camera in questo momento è messa in un posto strambo quindi bisogna portarla per esempio all'origine 0 0 0 così praticamente è lì e poi adesso ci muoviamo con ecco magari la camera la mettiamo al primo piano W andiamo a vedere dov'è ecco facciamo in modo tale che la camera inquadri quindi ce la spostiamo ce la avviciniamo spostiamo in fondo ecco vedete che adesso la camera inquadra quella cosa lì cioè praticamente non inquadra quello che mi interessa la scena preview camera invece la facciamo girare ecco per inquadrare la mostra su Leonardo e se dovrebbe esserci un modo ah sì possiamo anche fare un set fra un viewport che è molto più semplice cioè praticamente se vogliamo col tasto destro andiamo a inquadrare mostra su Leonardo così e poi facciamo set from viewport e quindi il disegno verrà proprio quello quindi se noi facciamo ctrl s pubblichiamo save and publish a questo punto su quello su quel disegno li comparirà mostra su Leonardo e semplicemente potrete andare a quindi facciamo scene my scene studio empty room ecco che in teoria avrebbe dovuto cambiare la scena adesso poi la controllo un attimo mostro su Leonardo quella ok non l'ha fatto probabilmente abbiamo pubblicato male comunque di per sé avete visto il il concetto cioè praticamente per far girare le persone fra un piano e l'altro qualora non riusciate a far rendere navigabile la scala usate questo ascensore praticamente che porta direttamente al piano di sopra per questo video è tutto l'unica cosa ancora volevo solo farvi vedere mostra video GLB se andate sotto vi fa vedere dovrebbe farvi vedere praticamente tutte da cosa è composto quindi tutte le immagini che avete vedete che c'è un'immagine di Leonardo che è un po' grossina e questa immagine qua la trovate poi sotto con le dimensioni quindi in pratica le scritte vedete sono piccolette 6K 5K 4K invece quella che era grossina era questo disegno qua quindi questo disegno qua probabilmente meriterebbe di avere una versione un po' più piccola perché vedete che questo è 3000 per 1801 che quindi non è non è proprio low poly detto questo ci sentiamo alla prossima dove cercheremo di portare questa mostra nel corso cercheremo di portare la mostra in Unity in modo tale da dargli anche un po' di interattività di un po' di un po' di un po'